Ore di fibrillazione a Palazzo dei Normanni. Oggi, secondo le previsioni, dovrebbe essere incardinato il testo della tanto attesa riforma delle province. Già in ritardo sulla tabella di marcia, visto che avrebbe dovuto essere approvata entro fine dicembre, si è già fatto ricorso ad una prima proroga dei commissariamenti. Sul testo, che prevede l'istituzione dei liberi consorsi di comuni al posto degli attuali enti, incombe però non soltanto l'eseguità dei tempi. Mancano nove giorni appena, altrimenti si tornerà alle elezioni, ma soprattutto il rischio alleanze. Le ultime tensioni tra PD e Udc in Sicilia, infatti, innescate dalla decisione del partito di Casini di appoggiare a livello nazionale Forza Italia, potrebbero fare vacillare l'intesa che i due partiti avevano tentato di raggiungere per portare a compimento la riforma promessa da Crocetta o comunque rallentarne il percorso. Dopo che il PD aveva lanciato l'ultimatum, o con Berlusconio nella maggioranza regionale, il leader dell'Udc in Sicilia, Dalì, aveva infatti chiesto un chiarimento urgente. In queste ore, in effetti, ci sono stati colloqui formali tra Crocetta e gli alleati e domani dovrebbe tenersi il vertice di maggioranza. Oggi però si deve calendarizzare il lavoro d'aula sulla riforma, dopo che il testo è stato approvato dalla Commissione Affari Istituzionali. E come non bastasse, il percorso della riforma non è neanche pianeggiante, per così dire. Sono molti gli aspetti del disegno di legge a non trovare consensi, anche nella stessa maggioranza. Proprio ora che servirebbe la maggiore unità possibile, dunque le nuove spaccature rischiano di vanificare tutto. Centro il 15 febbraio la riforma non sarà approvata, si tornerà alle elezioni e le province ritorneranno operative, come prima. Sullo sfondo le preoccupazioni per la manovra bis. La tensione resta alta perché ormai certo che, non potendo recuperare tutti i 550 milioni bloccati dal Commissario dello Stato, la nuova manovra d'emergenza prevederà tagli consistenti e sono molte le categorie di lavoratori in agitazione, a cominciare dagli stessi regionali. Grazie a tutti.